In casa dici? Di là, di là Vedete l'insieme Ua, mongolo C'è il mio nome La vuole armi Tutto così, dovete Ma che cosa non basta Si, sai pari Che gringo Che gringo Adichagnabo Ngomboloide Colmcagoka Co che gringo kela Paola tragogigi 卡 Be Kさ perd d gari bani ragavet K w Sand gari no account K ja iov non è così che cacca cacacu cacu cacu qui cacu 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 ma non cacu mai non dai mai poi ho visto tutte le cose che cosa che cosa? e la cosa non dà proprio questa ogni cacu cacca ho fatto una cacca 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 ma che beffine? che sono a mettere su youtube mica addirittura su youtube sai quando i centri ci fanno su youtube? non nemmeno faremo in questa maniera mi spagliamolo ci posso rire che hai da giocato ma quale hai fatto un bel piatto? non c'è proprio una sella cacca 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 Sì, lo vedi da mezza! Io ho te disto! C'è quello che stia fa? Chechè gu, chechè gu! 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 qui mmm non c'è un gusto non c'è un tozzo di bello ufff 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 vendicchio Gaggia 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 ma vuole mettere sui tubi stupide? e ha detto unaAmerica E' stato un bel corpo? e tu tu, mio marito? no, fu colosso, non lo so ok, quel tuo marito! fu colosso, perchè si sentiva alla destra invece si trova alla sinistra mmm, ha fatto il tuo culo guarda chi quello è a destra e il quale si aham, cuccafua ahahahaya va quello lo sfarmentato, c'è lì Ho quello gioccato! Devo stare in quello là che hai detto Ah, è il culo gioccato Sì, ma devi parlare Usaci, io ho quello gioccato Mezzo domande ce l'hanno fiammato Devi parlare, non mi hai parlato prima, papà Devi parlare, non mi hai parlato prima Ha rire! Che studia a rire? Adicca, 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 adicca Adicca, adicca Ma che che sta facendo? Ah no, sta la ruttando Guido, perché non dà la leppa? La leppa, la leppa Segui... Segui... Balla, come è? Balla, prima Ma mi ha detto Così, ma già c***a Ah,晚ie acorda Cuca cacara Ma che asisto, da? E guardatevi un pò cuca caca Adesso cominciano a te allergelire Zucca Villa, quella Shape it to my świadure Tu e tutta la Villa sono un pirito non c'è fuori la pilla tu vuoi che lì c'è la pilla noi c'è la pilla lì io come un ghibicco, un ghibicco, un ghibicco allora faccio che ti piace questo tu a mia forza l'uccellino vai tu a mia tu l'uccellino dalle p60 euro tu oh, posso staccarlo sui no, quella dura dura che è un ghibicco ma mettere vero che è l'orario sono 11 ancora qua come? come? dai uno c'è un pilla uno c'è un pilla uno ghibicco giga no chi è un giga? giga giga ghibicco ghibicco ma mettiamolo su youtube no, no, c'è un giga ah, minchia eh, me l'ha sfudato no, no, hai ragione ma chi è che sta a fare un monsiglio? e tu mi fai un monsiglio guarda che è un monsiglio ahahahahahahahahahahah per rire, sono cannuti a lui una faccia ma è un monsiglio no, adesso andate abbiamo nuovito migliore quindi abbiamo iissi mh